Ormai impazza la variante inglese, parliamo di un 84% di prevalenza sulla rilevazione puntiforme del 18 marzo, quella che ci è stata indicata dall'Istituto Superiore di Sanità. Perché ogni mese circa noi facciamo una rilevazione puntiforme delle varianti o comunque della genotipizzazione di tutti i casi nuovi positivi rinvenuti in un giorno X e recentemente l'abbiamo fatta il 18 marzo. Ora quindi la variante inglese è sicuramente quella più conosciuta, adesso ci sono altre varianti, c'è la variante brasiliana che pure ha dato dei casi qui in Abruzzo, ma noi non ci dobbiamo preoccupare più di tanto, ovvero sicuramente è una situazione di maggiore infettività, quindi il virus riesce a circolare di più. Però fortunatamente non è che sia più patogeno questo virus, il virus è patogeno quanto lo era il ceppo originale di Wuhan. Certamente però la possibilità di circolare determina un maggior numero di casi, di malati eccetera eccetera. Ma oramai avremo a che fare sempre con delle varianti di questo virus che saranno sempre più performanti, cioè in grado quindi di infettare di più. Perché questi virus devono migliorare le proprie performance, in che termini? Devono essere molto infettanti e devono piano piano devolentarsi. Alla fine quando ci sarà il ceppo che sarà in grado di infettare più velocemente, ma nel contempo in grado anche di dare meno patologia, sarà il ceppo vincitore. Riuscirà praticamente ad avere la meglio su tutti gli altri ceppi, è una specie di competizione così come ci sono fra gli animali e gli esseri umani. È la stessa identica cosa. Adesso questo ceppo, il ceppo inglese, è un ceppo vincente. Il brasiliano, in un numero di casi, potrebbe anche sostituire in Italia il ceppo inglese, ma sarà sempre così. Perché? Perché solamente con tutte queste mutazioni il virus riuscirà anche a devolentarsi. Quindi, anche se al momento abbiamo a che fare con una situazione, diciamo, virologica di questo tipo che ci preoccupa, ma è lo scotto che dobbiamo pagare. Perché se vogliamo arrivare fra due anni, speriamo, quanto prima, alla situazione in cui questo virus non dia più malattia, purtroppo dobbiamo convivere con queste varianti a maggiore diffusibilità.